Musica Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata dello speciale TG. Questa sera abbiamo con noi il primo cittadino di massa, quindi il nostro sindaco Francesco Perziani. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Grazie di aver accettato il nostro invito, anche perché sono 15 mesi dal suo mandato e direi di iniziare già facendo un bilancio. A parte che, diciamo la verità, è il primo sindaco di centrodestra che è a massa, quindi insomma anche questa cosa come l'ha vista la fiducia dei cittadini? Devo dire che il primo anno è stato abbastanza impegnativo, devo dire che è volato anche, è passato veramente velocemente, però credo che per quello che posso apprezzare, incontrando i cittadini, incontrando tutti i giorni associazioni, categorie, credo che insomma la risposta della città sia abbastanza positiva. Insomma certo ci sono ancora molti aspetti da affrontare, molte criticità da superare, però quello che mi è piaciuto più di tutto è sentire che c'è la percezione di un cambiamento, la percezione è che si sta lavorando nella direzione giusta, che i problemi si stanno affrontando e si stanno giornalmente cercando di risolvere. Questa è la cosa che più mi ha dato fiducia, mi ha dato anche il maggior impulso della nostra attività amministrativa e nel perseguire i nostri obiettivi. Passiamo all'argomento lavoro, pochi giorni fa c'è stata la conferma della cassa integrazione per Sanac, insomma secondo lei cosa si poteva fare per ovviare alla problematica? e poi appunto dal punto di vista del lavoro com'è messo il territorio secondo lei? Dunque i dati sul lavoro non sono ancora soddisfacenti ovviamente, c'è stato il rapporto della Camera di Commercio, dell'Istituto di Ricerca Camera di Commercio che nel rapporto che ha espresso quest'anno in relazione all'anno passato, che dice che c'è un miglioramento della percentuale di occupazione, quindi una riduzione della disoccupazione. Chiaro che questi sono dati ancora che magari non si sono tradotti in concreto e che non possiamo percepire, però probabilmente qualcosa in via di miglioramento c'è. Il panorama a livello provinciale, regionale, nazionale non è particolarmente cambiato, quindi anzi si parla a tratti anche di una ripresa, di una fase di recessione. Però detto questo direi che le problematiche sul territorio sono rimaste almeno le stesse che abbiamo trovato se non in parte diminuite. Per affrontare la questione Sanache che invece è un po' una spina nel fianco nel senso che preoccupa molto quello che potrà essere l'evoluzione, c'è da dire innanzitutto che il percorso è molto lungo perché probabilmente già la gestione dell'acciaieria Ilva di Taranto, già quello ha determinato una serie di conseguenze che poi si stanno ripercuotendo anche sul nostro territorio perché sappiamo quanto Sanache purtroppo si è vincolata nel proprio percorso alle sorti di Ilva, cosa che probabilmente avrebbe potuto essere anche evitata. È evidente che ad oggi, diciamo, prendendo un pochino, facendo un po' alcuna situazione di quello che è stato gli ultimi mesi, l'anno passato su quello che ha potuto fare il Ministero, credo che avrebbe potuto fare di più. Io personalmente ho anche scritto, ho sollecitato anche il Ministro Di Maio che all'epoca era appunto Ministro per lo Sviluppo del Lavoro, che ora ha lasciato questo Ministero per dedicarsi agli affari esteri, speriamo che chi in qualche modo prenderà il suo posto possa invece dare un impulso maggiore per risolvere la crisi che riguarda un po' le acciaierie nel complesso e Sanache nel nostro comprensorio. Ho incontrato l'amministratore proprio recentissimamente, l'amministratore straordinario di Sanache, il dottor Sala, cercando appunto di, in qualche modo, di sensibilizzarlo a un maggior impulso per quello che può essere la proposizione di Sanache verso altri fornitori, verso altri committenti, quindi sostanzialmente per creare premesse perché Sanache in qualche modo possa sì seguire le sorti di ILVA, se favorevoli, ma anche cercare un percorso alternativo qualora questa prima strada non porti dei risultati. Siamo vicini ai lavoratori e l'amministrazione è sempre stata vicina in tutti gli appuntamenti, in tutti gli incontri, in cui momenti assembleari, momenti di protesta, abbiamo accompagnato i sindacati nel loro percorso importante di tutela dell'occupazione e poi so che a breve, quindi prossima settimana, si terrà un nuovo incontro a Roma e quindi vedremo quali saranno gli esiti di questo incontro, vedremo quali sarà l'interlocutore e quali saranno le evoluzioni del percorso che Assolut Mittal sta in qualche modo portando avanti con il Ministero. Quindi siamo ovviamente preoccupati, però c'è massima attenzione e soprattutto la voglia di intervenire appena dove potremo, nel migliore dei modi, per poter permettere uno sviluppo positivo di questa avvertenza. Quindi siamo in attesa, diciamo così. Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di un'opera importante come quella di Via Pisacane, quindi è stato appena presentato l'avvio della gara d'appalto, si potrà quindi avere un palazzo sicuro, i cittadini potranno dormire sonni tranquilli? Beh, è un intervento prioritario, purtroppo i tempi, come sempre, un po' della burocrazia tendono un po' ad allungare quelle che sono le aspettative sia dell'amministrazione ma sia dei cittadini, però posso dire che la gara d'appalto partirà proprio in questi giorni, che è la prima opera che andiamo a realizzare sulla base di quelli che sono i finanziamenti del bando delle periferie. In realtà posso dire che altri lavori erano anche in qualche modo in procinto di essere attivati, però ci piaceva, ci ritenevamo opportuno e importante dare il primo segnale di avvio proprio sul tema più importante, che è il palazzo di Via Pisacane. L'appalto, quindi adesso la gara verrà pubblicata, si tratta di un appalto che va dai 2 milioni, 2 milioni e 2 di opere, quindi sostanzialmente un'opera importante. Nel frattempo stiamo anche monitorando che le opere dell'altra parte, quelle di competenza di ERP, possano essere portate a fondo, quindi possono in qualche modo essere ultimati in maniera corretta, quindi credo che anche su questo punto di vista la nostra amministrazione si sia impegnata per dare una risposta concreta ai cittadini, soprattutto in quell'area così importante e così delicata. Parliamo invece del municipio 2, alla ex caserma dei Carabinieri, in centro, a massa, quindi a pochi passi dal palazzo comunale, verrà aperto appunto il municipio 2, dove sarà spostata la polizia municipale e altre tipologie di uffici. Pensa che sia un giovamento per la polizia municipale e anche per i cittadini ritornare in centro, proprio avere la presenza del vigilo urbano? Io credo che la scelta sia corretta, per vari motivi, prima di tutto perché la sede attuale della polizia municipale, benché in qualche modo fruibile attraverso una viabilità o dei parcheggi abbastanza idoni, in realtà fosse però carente sotto a tantissimi alti profili, quindi soprattutto per la distanza dal centro storico, per la distanza dagli altri uffici comunali, comunque per la non bellezza dell'edificio o dell'efficienza dell'edificio in cui attualmente si trovava. Abbiamo ritenuto, io lo ripeto, credo che sia una scelta che sia condivisa ovviamente anche dagli uffici e dai tecnici corretta, quella di andare a recuperare un edificio tutto sommato sano, un edificio che era stato adibito a caserma del comando provinciale dei Carabinieri, quindi in qualche modo già connotata, non sono molto rilevanti, molto importanti, infatti adesso sono partiti i primi lavori di adeguamento, uno stanziamento di 160 mila euro del primo lotto, quello che porterà nella primavera prossima del 2020 al trasferimento della sede della polizia municipale in quel contesto. Il contesto credo che sia corretto perché avere la polizia municipale vicino alla sede del Palazzo Civico, averla in centro comunque raggiungibile sia a piedi ma anche attraverso dei parcheggi abbastanza vicini, è dotata anche di parcheggi per le auto della polizia municipale, credo che abbia tutti i requisiti per poter dirsi che sia una sede non soltanto funzionale ma anche una sede più bella, più prestigiosa per un corpo di polizia municipale al quale noi abbiamo voluto rilanciarlo, soprattutto anche nell'orgoglio proprio della polizia municipale di appartenere a un corpo importante, di vestire una divisa che è rappresentativa e dell'espressione dell'immagine del comune, per dare un ruolo alla polizia municipale veramente prioritario nell'incontro con il cittadino, come presidio di legalità, come prevenzione sulle strade, per tutela di quello che è l'insieme del vivere civile e civico. Quindi credo che lo sforzo che abbia fatto questa amministrazione spero che sia, trovi il riconoscimento anche da parte dei cittadini, ma insomma credo che questo lo vedremo, però credo che sia una scelta giusta che rifarei. Assolutamente. Restando un tema di forze dell'ordine, a che punto è l'iter per lo spostamento dell'acquistura, l'ex Banca d'Italia? L'iter è a buon punto, abbiamo ricevuto comunicazione proprio nei giorni scorsi da parte del Ministero, che è stato mandato all'Agenzia del Demanio di valutare i costi e la fattibilità dello spostamento dell'acquistura, qualora l'immobile dell'ex Banca d'Italia venisse acquistato da un ente previdenziale tipo Inail o cose del genere. Quindi questo vuol dire che c'è già una scelta, un indirizzo che è stato condiviso. Io ho proseguito quello che era già una valutazione, una visione, un obiettivo del prefetto e del questore, che ringrazio anzi la sua eccellenza, il dottor Paolo Dattilio e il dottor Ferrari, questore, per aver dato impulso a questa importante iniziativa che va non soltanto nella direzione di dare alla sede di una questura veramente importante, efficiente, anche in grado di poter consentire al personale di, in qualche modo, di svolgere il proprio lavoro in maniera veramente organizzata e in maniera funzionale. Ma anche perché, per poter in qualche modo, riqualificare un edificio importante come quello che è la sede della Banca d'Italia, una piazza importante come la Piazza Garibaldi, che noi vogliamo andare anche a migliorare e a riqualificare. Stiamo pensando a un progetto di rifacimento di Piazza Garibaldi. Tutto unendo in un contesto che noi riteniamo fondamentale perché è l'ingresso del centro storico di massa. E quindi il fatto che questa valutazione, questo impulso che è stata anche accompagnata in maniera, come dire, convinta da parte di questa amministrazione, abbia trovato anche riscontro a livello ministeriale che quindi sia arrivato questo impulso ci conforta anche in questo senso che la direzione è corretta e speriamo di poter, a breve, anche poter dare qualche notizia in più sul percorso che stiamo seguendo. Parliamo un'altra volta di un'opera importante che è quella del Teatro Guglielmi. In campagna elettorale da tutti i candidati sindaci è stato detto riapriremo il Teatro Guglielmi a gran voce. A che punto siamo con la riapertura? Beh, innanzitutto mi lasci dire che dalle domande che lei mi ha fatto si evince che le opere pubbliche che questa amministrazione ha messo in campo, quindi tutto un percorso, un programma triennale di opere pubbliche è molto importante. Massa aveva bisogno di interventi anche radicali e profondi per dare una nuova veste alla città e un volto nuovo anche nell'ottica di quello che sarà l'attuazione del regolamento urbanistico che abbiamo portato a termine e che tra breve vedrà la pubblicazione e quindi l'entrata in vigore a tutti gli effetti, così come il piano strutturale che intendiamo riandare ad aggiornare proprio per andare a dare un volto completo al nostro territorio e anche il Teatro Guglielmi si inserisce in questo contesto. Purtroppo tante cose in precedenza forse non ci venivano o non venivano comunicate in generale alla cittadinanza in modo corretto. È evidente che poter dire riapro il Teatro Guglielmi e voleva dire sapere la situazione in cui si trovava il teatro. Questo purtroppo io l'ho appreso soltanto andando a esaminare il faldone, il carteggio che ho trovato il giorno dopo il mio insediamento e da lì abbiamo appreso cose un pochino più rilevanti rispetto a quelle che probabilmente venivano dette e non dette o in qualche modo comprese. Da lì però non ci siamo persi d'animo, ci siamo messi immediatamente al lavoro, abbiamo ottenuto entro un anno progetto, approvazione dei vigili del fuoco a livello provinciale, regionale, insomma un percorso molto lungo e complesso che oggi ci permette di dire che i lavori inizieranno, i lavori di adeguamento intanto impiantistico già entro fine anno. Partirà adesso anche la gara anche per questo, abbiamo la progettazione già pronta e io per scaramanzia non voglio dire quando questi lavori potranno consentire una riapertura. Infatti la stavo già interrompendo, stavo dicendo il prossimo anno avremo la stagione teatrale finalmente. Ce l'auguriamo, stiamo lavorando in quella direzione, salvo imprevisti, se non ci sono intubi, ce l'auguriamo tutti. Non facciamo promesse che non possiamo mantenere, però certamente l'impegno, la voglia di dare questa risposta a città c'è tanto. So che il bisogno del teatro Guglielmi è un polo culturale, artistico, abbiamo tantissime idee e poi progetti da sviluppare all'interno del teatro, quindi anche a noi manca questa possibilità. Anche se devo dire che grazie anche all'assessore della cultura, agli uffici che ci stanno dando una mano a Toscana Spettacolo, alla Fondazione Toscana Spettacolo, stiamo cercando di dare comunque una risposta, una stagione teatrale degna comunque della nostra città. L'anno scorso ci siamo riusciti a metà, quest'anno speriamo di fare meglio, c'è un calendario con otto serate, che sono a buon livello con tutti gli attori importanti e spero che il nostro pubblico potrà essere soddisfatto. Passiamo a un tema di rilevanza, è molto importante, le bonifiche. Entriamo in argomento, come farà l'amministrazione? Anche questo è un tema molto delicato, che purtroppo negli anni passati credo che anche qui non sia stato gestito correttamente, proprio a livello informativo, perché per tanto tempo, anche fino a quando noi abbiamo incominciato a spiegare un po' ai cittadini, abbiamo cercato di spiegare veramente come stessero le cose, si diceva che c'era l'accordo di programma per la bonifica, che tutto era pronto, che erano stati stanziati i soldi per la bonifica, si parlava sempre di bonifica. Però, peccato che non si pensava mai, nel frattempo, a dire ai cittadini interessati in quell'area che le acque di falda probabilmente, anzi con certezza, presentavano delle contaminazioni. quindi non si possono dire certe cose o non dirle pensando che poi qualcuno, poi un domani, come dire, no, ci passi sopra. Io sono molto preoccupato, perché se non fosse stato per le ordinanze che ha riemesso questo comune, che abbiamo riemesso noi quest'anno, così come il comune di Carrara, non dimentichiamoci che per decenni lì c'è stato sostanzialmente una sorta di, come dire, di velo che ha coperto ciò che in realtà stava accadendo. E cos'è che stava accadendo? Sostanzialmente nulla. Perché? Perché questo accordo di programma per la bonifica è durato anni, 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 va bene, si sa che è complicato, che ci vogliono soldi, quant'altro, però sta di fatto che... Sono passati più di 30 anni, quindi... Ma anche prendendo gli ultimi 10, ma contenterei di valutare gli ultimi 10, non mi spingerei così indietro, ma anche prendendo gli ultimi 10, che cosa abbiamo ottenuto ad oggi? Semplicemente uno studio per progettare la bonifica. Quindi non si tratta della bonifica, ma dello studio. Preliminare... Non si tratta di dire partiamo a fare veramente qualcosa di concreto. Quindi noi adesso, forse, abbiamo... Siamo in un momento in cui i dati del piano di caratterizzazione nella fase di magra e di morbida sono stati raccolti. Entro fine mese mi auguro di avere i dati definitivi sulla seconda campagna di analisi. Ovviamente la regione che dirige insieme al Ministero dell'Ambiente questa fase dovrà comunicarci, dovrà renderci participi insieme ad ARPAT e insieme a tutti gli altri enti di controllo di quelli che sono i dati. A quel punto la società in ausa del Ministero dell'Ambiente dovrà progettare la bonifica, che quindi avverrà. Speriamo che inizi il più presto possibile. Però tutto questo nel frattempo è successo, è accaduto sopra la testa dei cittadini, sopra la testa di chi si aspettava che qualcuno gli dicesse esattamente come stavano le cose. Però cosa mi sorprende è che adesso quando noi invece come amministrazione abbiamo divulgato i dati, anzi c'è stato contestato che l'abbiamo fatto troppo tardi, ma allora invece chi sapeva che c'era un accordo di programma in corso, perché non ha detto, state attenti che nel frattempo dobbiamo verificare come state le cose, non utilizzate l'acqua di falda. Quello non l'ha detto nessuno. Invece ci viene detto a noi che dobbiamo comunicare, quando dobbiamo e quando non dobbiamo comunicare i dati. Noi l'abbiamo comunicato i dati e abbiamo detto quello che erano i risultati effettivi. Non abbiamo creato, voluto creare, né allarmismo, ma non abbiamo voluto neanche dire di stare tranquilli perché non c'era nulla di male. In realtà dobbiamo dire ciò che è la verità perché il cittadino quando si parla di salute soprattutto, la salute pubblica, informato correttamente perché deve sapere come si deve comportare. E allora io dico adesso mi fa piacere che perché ci siamo noi e che diciamo le cose allora tutti si alzano le associazioni, l'opposizione, creiamo commissioni speciali ma perché le commissioni non le avete fatte prima? Perché non avete fatto gli approfondimenti prima? Perché non siete andati a fare le associazioni e a fare i convegni quando nessuno doveva parlare di questa cosa? Non è che l'inquinamento l'abbiamo creato noi, non è che abbiamo l'obbligo noi di risolverlo, però noi lo stiamo affrontando. Meglio che da una parte se ne parli a questo punto. Quello che mi sorprende è che adesso improvvisamente tutti ne vogliono parlare, tutti ci raccontano della farmoplant, il problema dell'inquinamento non è la farmoplant, la farmoplant è un episodio, come in realtà sappiamo che i primi divieti di attingere dai pozzi della falda dei pozzi artesiani partito nell'81 i primi provvedimenti di divieto. Poi qualcuno è intervenuto negli anni 90, qualcuno puntuale, qualcuno della provincia, ma in realtà non se ne è più parlato a livello di opinione pubblica, a livello di messaggio generalizzato, nessuno ne ha più parlato. Se pensiamo che il Cune di Massa ha transato i danni per la causa di farmoplant dopo anni e anni di causa accontentandosi di 700 mila euro per l'episodio della farmoplant, possiamo dire che l'episodio della farmoplant nel Cune di Massa è stato trattato nella maniera corretta, però non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti, sia sceso in strada, nessuno abbia preteso chissà che cosa, tutto è avvenuto nel silenzio della popolazione e adesso invece a noi ci vengono a fare a dire cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, ecco questo aspetto mi dispiace che quando come dire incomincio a parlare di un argomento improvvisamente tutti diventano i professori maestri di quell'argomento, credo che avrebbero dovuto farlo prima i maestri e i professori e adesso ci lasciano fare le cose, noi dell'argomento ce ne occupiamo, io ovunque si parla di problemi dell'ambiente, di bonifiche della falda partecipo perché voglio sapere, voglio conoscere, voglio confrontarmi, nessuno deve nascondere nulla, però facciamolo anche in modo tale che nessuno si erga, ci sono i medici adesso l'indice dei tumori ma dove erano negli anni passati? Dove erano questi dati? Chi è che li ha sollevati? Chi è che ha avvertito la popolazione di stare attento all'utilizzo di alcune delle acque in alcuni territori in alcune zone? Ecco io queste domande me le pongo qualcuno dovrà anche darmi una risposta. Assolutamente, direi che cambiamo un po' argomento, parliamo del regolamento di polizia urbana che ha fatto tanto chiacchierare ha fatto tanto chiacchierare anche a livello mediatico della cronaca nazionale perché sappiamo che Gasman ora vedranno i telespettatori sullo screen sulla nostra tv anche i tweet che sono passati di Gasman di Fiorella Mannoia che li hanno insomma criticato diciamo anche pesantemente sulle modifiche al regolamento di polizia urbana perché in realtà sono modifiche non è un regolamento rifatto da capo che cosa ha da dire in merito? Ma guardi intanto che io comunque ho rappresentato l'autorità giudiziaria come avevo promesso di fare ho presentato la mia segnalazione quindi poi sarà l'autorità giudiziaria a valutare se certe affermazioni certi commenti siano effettivamente denigratori non soltanto di questa amministrazione non tanto da mia persona che mi interessa poco ma più che altro di far passare un messaggio negativo su quello che sta facendo la nostra amministrazione a danno di immagini di tutto il comune e tutti i cittadini ma detto questo che è una cosa di poco conto posso intanto confermare che recentissimamente il comitato provinciale per l'ordine di sicurezza pubblica presieduto dal prefetto ha riconosciuto la perfetta validità e legittimità del nostro regolamento di polizia urbana che fondamentalmente aveva lo scopo di recepire quelle che erano le novelle legislative del decreto Minniti e poi del decreto Salvini in ordine al DASP urbano quello era fondamentalmente la ragione dell'adeguamento perché senza quei provvedimenti non avremmo potuto porre in essere comportamenti atti attività di contrasto a quello che erano la prostituzione a quello che era il commercio abusivo a quello che è lo spaccio di stupefacenti tutta una serie di situazioni che chiaramente creano allarme sociale e impediscono il vivere civico e sereno soprattutto in una località un ambito prettamente turistico come il nostro quindi questa è la motivazione principale se poi all'interno di questo regolamento siamo andati a meglio descrivere alcune condotte o meglio a ridisegnare quello che erano il regolamento nel suo complesso beh questo ha consentito a qualcuno qualche persona poco attenta nel leggere soprattutto i regolamenti degli altri comuni nel leggere il lessico utilizzato nel capire il senso di quello che si deve dire nel strumentalizzare qualche parola qualche affermazione in realtà lungi da noi impedire censurare l'uso di qualunque tipo di abbigliamento lo scopo è quello come in tanti altri comuni sta avvenendo di rispettare però il decoro cittadino perché non si possono vedere persone a torso nudo o in bikini che girano per i centri città è una cosa che era già poi tra l'altro prevista l'anno scorso avevo già immesso un'ordinanza dello stesso stampo ma si vede che quest'anno qualcuno aveva voglia in qualche modo di divertirsi alle nostre spalle ma io credo che questa polemica sia abbastanza spenta poi c'è l'aspetto invece del contrasto della prostituzione è evidente che anche questo era un modo per utilizzando termini ripeto che si possono trovare in qualunque regolamento comunale da Genova Firenze Roma insomma tutti altri si parla sempre di abiti indecenti che abbiano lo scopo in qualche modo all'interno di un contesto ovviamente quindi determinati comportamenti che siano tese ad adescare i clienti che quindi rappresentino il comportamento che noi vogliamo impedire che è quello della prostituzione devo dire che tra l'altro quest'anno a differenza dell'anno scorso dove purtroppo alla sera spesso anche non in tarda sera si vedevano delle signorine a girare anche vicino al pontile credo che quest'anno io senza credo senza dover essere smentito credo che quest'anno il fenomeno sia stato contrastato correttamente e non si siano viste quelle diciamo quelle situazioni che invece avevano creato un po' di hanno disturbato un po' anche i nostri turisti l'anno scorso benissimo passiamo al Parco dei Ronchi avete firmato pochi giorni fa una convenzione che stanzia diversi fondi per il Parco dei Ronchi oasi del WWF benissimo ci è piaciuta particolarmente perché dare fondi alla natura e a ciò che riguarda gli animali è sempre una bellissima cosa è venuto fuori appunto da presidente dell'associazione che le passate amministrazioni non le avevano praticamente considerati del tutto ci sono andati anche abbastanza giù pesanti con le vecchie amministrazioni lei cosa pensa di questo fatto? guardi innanzitutto io penso a fare bene io a fare bene noi e la nostra amministrazione perché quello che mi interessa poi alla fine è questo prima ovviamente quando mi riferivo ad altre circostanze lo facevo perché da altre parti ci viene veniamo criticati veniamo attaccati quindi io dico chiaro che mi difendo dicendo cosa è stato fatto precedentemente però in realtà poi sono polemiche che lasciano il tempo che trovano e quindi le voglio in qualche modo superare invece mi fa piacere che il centro WWF quindi WWF Alta Toscana abbia comunque riconosciuto che da parte nostra è stato fatto qualcosa che in precedenza non è stato fatto da nessuno questo mi sembra che sia un esempio concreto perché l'attenzione che abbiamo noi verso l'ambiente verso la tutela del nostro paesaggio del turismo che può creare anche la tutela di un bellissimo paesaggio come quello che va dall'ambiente marino all'ambiente ovviamente retrodunare fino ad arrivare le nostre montagne per noi è un motivo di orgoglio abbiamo ricevuto l'anno scorso la bandiera del santuario Pelagos per la tutela del santuario dei cetaci abbiamo la bandiera blu è stata ovviamente riconformata anzi sono state allungate alcune spiagge e poi a parte quei piccoli episodi di diveto e balneazione mi sembra che la stagione sia andata anche sotto questo profilo molto bene di questo sono contento poi abbiamo ricevuto anche la bandiera di città amico della natura da parte di Geronimo Stilton e del tassista voglio dire ci sono tutta una serie di eventi non soltanto a parole ma anche a fatti che testimoniano la nostra sensibilità verso queste tematiche quindi credo che possiamo fare tantissimo molto di più però insomma noi intanto il nostro cerchiamo di ogni giorno di portare avanti un percorso non sempre tutto è semplice non sempre tutto è facile però già avere ad esempio creato un capitolo ad hoc aumentando lo stanziamento degli anni passati che era un po' tutto un calderone di varie somme e aver destinato una somma importante per il parco WWF credo che sia qualcosa di più di simbolico qualcosa di concreto una strada che vogliamo percorrere e vogliamo percorrere sempre meglio benissimo passiamo alle partecipate Asmio Gaia allora intanto direi di parlare prima di Asmio che all'inizio del suo mandato il bilancio era un po' scricchiolante diciamo così com'è al momento la situazione di Asmio allora Asmio è un tema che ovviamente era molto delicato abbiamo dovuto immediatamente concentrarci su questo aspetto abbiamo immediatamente chiuso i rapporti quello che erano la posizione debitoria creditoria quindi la rinegoziazione del debito verso Asmio andando a stanziare quei famosi 2 milioni e 2 che hanno chiuso tutta un'avvertenza che aveva impedito negli anni passati di sviluppare Asmio abbiamo risanato il bilancio dell'anno precedente e quindi grossomodo con un impegno di spesa sui 3 milioni di euro 2 milioni e 2 più circa 700 mila euro che era la perdita del bilancio 3 milioni che ovviamente non sono stati impegnati subito ma una parte verranno rateizzati ad Asmio secondo quello che è il piano approvato dal Consiglio Comunale però quello che è importante è che noi 2018 l'abbiamo chiuso in pareggio quindi sostanzialmente abbiamo ripianato non soltanto il pregresso ma abbiamo anche ripianato e messo a posto lo stesso anno in cui ci siamo trovati noi Asmio chiaramente ancora un'azienda sulla quale dobbiamo ancora lavorare e stiamo investendo devo dire l'amministratore unico Lorenzo Porzano gli si può dire tutto ma se non quello di non essere impegnato assolutamente giorno e notte io lo ringrazio per tutto l'impegno veramente che sta dedicando a questa azienda tra l'altro ora è in corso il bando per il nuovo direttore ci sono il rifinanziamento regionale attraverso lato dell'acquisto di nuovi mezzi per le istruzioni di isole ecologiche sono state campagne di sensibilizzazione molto importanti puliamo massa eccetera abbiamo fatto anche dei miglioramenti sulla raccolta differenziata io credo che siamo in un percorso virtuoso quindi mi aspetto nel 2019 di avere rafforzato ancora di più questa azienda però posso dire che dopo il primo anno anno e mezzo credo che nel 2020 il prossimo anno io conto di raccogliere molto di quello che abbiamo seminato direi che vorrei aggiungere un po' anche per dare un po' un quadro alla situazione che ad esempio quest'anno anche se negli anni passati sembrava che quello fosse la cosa più importante la cosa più bella che fosse stata fatta devo dire che i nostri conti pubblici del comune sono perfettamente in ordine anzi abbiamo incrementato quello che era la gestione oculata della spesa lei pensi che nei primi non ho i dati successivi ma credo che siano gli stessi nei primi sei mesi del 2019 il comune di Massa non è andato mai neanche un giorno in anticipazione di tesoreria vuol dire che abbiamo sempre lavorato con i soldi che abbiamo incassato abbiamo programmato bene la spesa quindi vuol dire non abbiamo pagato interesse alle banche e abbiamo anzi al 30 giugno rispetto ai 9 milioni e mezzo che ho trovato l'anno scorso che ovviamente sono soldi che poi andavano a essere spesi abbiamo un resoconto sui 13 milioni e mezzo quindi vuol dire che non soltanto era possibile tenere i conti in ordine ma era possibile tenendo i conti in ordine anche operando sul territorio quindi investendo risorse investendo soldi aumentando la spesa pubblica aumentando il fabbisogno organizzando gli uffici o facendo opere pubbliche però tutto si poteva fare con queste ottime notizie ci fermiamo soltanto per qualche secondo per la pubblicità e torniamo dopo con il sindaco di massa Francesco Persiani per parlare di altri argomenti Eccoci ben ritrovati con lo speciale TG eravamo in compagnia del sindaco Francesco Persiani che è ancora qui davanti a me per rispondere ad alcune domande per chi non avesse visto e per chi si fosse sintonizzato solo adesso potrà poi riguardare la puntata eventualmente su youtube per vedere che cosa ha risposto il nostro sindaco alle nostre telecamere e alle nostre domande soprattutto stavamo parlando delle partecipate abbiamo concluso prima di andare in pubblicità con Asmio adesso direi parlare di Gaia fondamentale anche perché ritorno sul discorso campagna elettorale da Gaia si può uscire da Gaia non si può uscire tutti i candidati sindaco che dicevano che da Gaia si poteva uscire come si può uscire da Gaia soprattutto ma si il tema importante un tema anche complesso però tutto è possibile ovviamente si tratta di trovare dal punto di vista politico prima di tutto e poi anche dal punto di vista giuridico la forma corretta per poter dare un senso a quello che andiamo a dire quando si può uscire da Gaia perché uscire da Gaia vuol dire anche sapere dove poi andare a cascare perché il servizio comunque deve essere mantenuto quindi è chiaro che tutto questo avendo dovuto noi sostanzialmente iniziare un percorso da zero perché come in tante cose siamo subentrati a una presente amministrazione che invece aveva sostanzialmente trascurato molti se non quasi tutti questi aspetti così strategici e importanti per il nostro comune e quello che abbiamo voluto fare innanzitutto è capire bene la situazione quindi abbiamo sempre partecipato insieme al nostro assessore Baratta insieme comunque dialogando sempre all'interno della giunta dialogando con i nostri uffici incontrando i cittadini le associazioni partecipando a tutte le sedi istituzionali quindi alle assemblee dell'autorità idrica toscana quella della nostra del nostro ambito partecipando alle assemblee di Gaia confrontandoci con le altre amministrazioni quindi abbiamo fatto un percorso innanzitutto di studio di verifica di quello che era il percorso fattibile abbiamo anche affrontato la questione in consiglio comunale con degli atti di indirizzo dove ovviamente abbiamo ribadito la necessità che l'acqua resti un bene pubblico che la gestione soprattutto resti pubblica ma soprattutto che il controllo da parte degli enti locali da parte dei comuni fosse un controllo completo quindi un controllo come cosiddetto controllo analogo in cui i comuni possano veramente interloquire con la società che fornisce che gestisce il servizio quindi idrico le fognature la depurazione fosse un servizio nell'interesse dei cittadini con delle tariffe adeguate e quantomeno che queste tariffe fossero rispondenti a investimenti a favore del territorio ora sappiamo che questo è un ambito molto complesso perché come per i rifiuti come per altre situazioni come per la sanità vede coinvolti tantissimi comuni parliamo di centinaio di comuni che riguardano questa situazione quindi non è immediatamente facile muoversi all'interno di questo contesto sebbene massa abbia una buona percentuale sia abbia peso nella società Gaia è una società quindi che è interamente partecipata dal pubblico quindi dagli enti locali dai comuni che però ha una veste di società di stampo privatistico è un S.p.a quindi con un consiglio di amministrazione e con un direttore con tutto un apparato che ovviamente svolge il proprio servizio quello che abbiamo innanzitutto cercato di fare appena abbiamo avuto la possibilità perché è chiaro che questi organi hanno una durata e quindi si rinnovano ogni di tre anni in tre anni è stato rinnovato il consiglio di amministrazione è stato un percorso abbastanza anche qui complesso articolato che ha visto vari incontri varie posizioni varie strategie che ovviamente in cui la politica ha cercato di in qualche modo di dare degli indirizzi ben precisi non dimentichiamoci che nel caso di specie Gaia ha visto protagonisti insomma molti comuni che vedono sono guidati dal centro-sinistra se non dal PD comunque da liste civiche espressione della sinistra quindi non è stato facile cercare di in qualche modo tutelare quello che erano i nostri obiettivi quello di una di un'amministrazione centro-destra che chiaramente vedeva in qualche modo minoranza però devo dire che alla fine nel dialogo nelle proposte nel confronto è emersa insomma la possibilità di creare uno scenario che credo che in questo momento possa essere abbastanza strategico e anche tattico per il comune che vede il riconfermato il precedente presidente del consiglio al quale auguriamo tutti buon lavoro che il presidente colla che però era espressione del centro-sinistra e che è stato in qualche modo rivendicato dal centro-sinistra e all'interno del consiglio dell'amministrazione invece due componenti espressi da due comuni di centro-destra Massa e Pietrasanta vedendo il comune di Massa riconosciuto dalla vicepresidenza credo che questo sia un obiettivo non facile che credo che invece sia importante e come dire un risultato utile per il comune di Massa perché ci vede in qualche modo protagonisti della conduzione dell'amministrazione di questa società che ha una duplice obiettivo prima di tutto quello di fare in modo che nel frattempo mentre si porteranno avanti quelli che sono i percorsi di trasformazione e modifica barra uscita dalla società intanto quello di fare in modo che il nostro territorio io intendo dire non soltanto Massa ma vorrei dire la provincia di Massa a Carrara ovviamente perché non è che noi vogliamo difendere soltanto un confide limitato però dare al nostro ai nostri utenti della nostra provincia innanzitutto gli investimenti necessari che partiamo dal lavello dal puratore che ha creato così tanti problemi anche in passato e che ancora da oggi crea a destra un pochino di preoccupazione anche se la situazione è in via di miglioramento i lavori che hanno stati imposti dal tribunale sono stati pressoché quasi tutti completati ci sono delle proiezioni anche di miglioramento quindi noi faremo in modo che gli investimenti vengano sempre tenuti alti e anzi che si vada a risolve definitivamente quel contesto e questo ci permette di farlo all'interno della società poi abbiamo le fognature la gestione dell'impianto idrico quindi le perdite d'acqua tutto quello che potrebbero migliorare efficientare il servizio e dall'altro però ovviamente siamo anche pronti all'interno con tutto quello il peso politico il peso anche all'interno societario che potremmo apportare quello di intraprendere come ci sono segnali che stanno arrivando anche da diversi comuni quello di andare ad apportare giusti e correttivi rispetto a una società di diritto privato quindi che sostanzialmente è regolata dal codice civile dalla legge sulle società a quello di una gestione invece più partecipata più pubblica in cui ogni socio pubblico possa avere un maggior ruolo all'interno della direzione degli obiettivi del coordinamento delle attività di Gaia questo noi lo abbiamo già detto l'abbiamo già espresso l'abbiamo già comunicato anche alle associazioni ma l'abbiamo già detto anche in sede assembleare quindi è un percorso che inizia da oggi chiaro che le cose purtroppo non avessimo qualche strumento magico potremmo potremmo anche accelerare i tempi però questo vorrei che fosse chiaro questo è un nostro obiettivo un nostro indirizzo che vogliamo perseguire e abbiamo anche ora l'occasione attraverso anche comuni di centro-destra anche a provincia di Lucca sul quale vorremmo ovviamente fare sponda unirci in questo contesto migliorare quello che potrà essere anche questo percorso rimanendo in tema Gaia ma non è propriamente tema Gaia nel senso ora le faccio capire dove voglio arrivare riguardo il rinnovo dei vertici c'è stata appunto la vicepresidente che è l'avvocato Michela Consigli che è stata inserita appunto dai governi di centro-destra per rappresentare il comune di Masta e Pietra Santa e in concomitanza è entrata in consiglio comunale al posto di Sergio Bordigoni e forse negli scranni di Forza Italia la consigliera Roberta Dei dall'inizio fin da subito c'è stata un po' di bagarre a suon di comunicati stampa come l'ho definita io fra lei appunto la consigliera pensa che c'entri il discorso delle partecipate quindi di Gaia pensa che lei volesse ricoprire il ruolo della consigli o comunque aspirare a farlo no non credo perché sarebbe incompatibile col ruolo di consigliere comunale che al quale invece visto che lei ci teneva molto è giusto la sua battaglia l'ha vinta quindi quando si dice chapeau nel senso che noi rispettiamo l'esito delle sentenze e dei giudizi vorrei forse chiaro che ovviamente quello che come dire ha portato poi una piccola botta e risposta sui comunicati stampa anche da parte mia dipesa soltanto dal fatto che sono stato un po' chiamato in causa all'interno di una vicenda nel quale ovviamente né come sindaco né come amministrazione ma direi neanche come consiglio comunale in qualche modo c'entravamo perché se c'era una questione all'interno di Forza Italia se c'era una questione fra elegibilità e non elegibilità queste erano questioni tecniche giuridiche cioè non c'è nessuna volontà politica di volere come dire danneggiare ostacolare quello che potesse un percorso all'interno del consiglio comunale o di altro genere quindi io ben venga la consigliera Roberta Dei gli auguro appunto buon lavoro non capivo quale fosse la polemica che ne stava venendo imputarmi di avere qualche modo questo abbiamo semplicemente chiarito questi tutti ci stiamo chiedendo ancora questa polemica nel dire che mi sono permesso di nominare sempre avvocati da tutte le parti a parte vuol dire che le nomine sono prerogativa del sindaco quindi fin dei conti finché non nomino persone che non hanno i requisiti che non hanno i meriti che non hanno una buona reputazione credo che queste sono critiche un po' che finché nomino persone con un certo curriculum e una certa competenza sempre avvocati però penso che se in un collegio sindacale la persona più adatta possa essere un commercialista iscritto nell'albo del rivisore dei conti anzi debba esserlo credo che un consiglio d'amministrazione una società complessa e credo che il ruolo dell'avvocato sia un professionista che abbia tutti i crismi per poter rivestire correttamente in maniera utile questo incarico quindi fino a prova contraria tra l'altro insomma mi sembra che di avere sempre nominato non solo persone giovani avvocati giovani e anche avvocatesse quindi questo per dire che c'è sempre stato spazio per tutti e per tutte così come in ERP per esempio l'avvocato Nicola Baruffi che insomma è una persona un avvocato giovane esperto anche che ha avuto anche un passato di esperienze politiche quindi insomma ho cercato in vari ambiti ora senza stare a citare tutti ma comunque sarebbe lungo l'elenco quando ho potuto ho cercato anche forse probabilmente anche per il mondo professionale da quale provengo che mi permette anche di aver avuto una conoscenza magari anche specifica di certi professionisti ma vedo che anche anche in altri campi insomma vedo che tra l'altro anche molti sindaci insomma molti assessori provengono dal mondo forense quindi non ci vedo nulla di male mi sarei come dire avrei capito una critica contraria dicendo magari aver nominato persone che non avessero delle qualifiche delle competenze quindi dire che fare una polemica sul fatto che ho nominato persone competenti mi pare effettivamente ma probabilmente in quel momento capisco che la signora Roberta Dei probabilmente aveva insomma qualcosa come dire un po' un rospo da sputare perché chiaramente capisco che il suo percorso per arrivare in consiglio comunale è stato difficile ma non può imputarlo né a me che non c'entro nulla né a nessun altro succede insomma sono le cose che accadono insomma quindi non ci vedo nulla di più e mi fa piacere che poi alla fine la cosa si sia la problematica tra virgolette è rientrata si è rientrata e questo bene è di buon auspicio perché il nostro consiglio comunale continua a lavorare bene con una maggioranza compatta di donne e uomini che vogliono dare un contributo fattivo sono lì per servire il dare un servizio alla nostra città e quindi quello di farsi promotori di idee di progetti di delibere di iniziative che possono portare un miglioramento della nostra città Passiamo alla viabilità piano asfalti che è stato recentemente attuato capolinea della stazione di massa Sì, ecco credo che anche abbiamo avuto un'immediata attenzione anche a questa tematica quindi un miglioramento della viabilità anche non sempre ci azzecchiamo nel senso che a volte ci sono alcune strade che magari modificandole uno dobbiamo modificarne tante altre a volte non sempre tutto funziona però lo diciamo sempre che quello che facciamo lo facciamo anche in via sperimentale perché a volte c'è bisogno anche di abituarsi a certi contesti chiaro che dove si possono valutare dei miglioramenti e dei aggiustamenti siamo sempre pronti a farlo però devo dire che anche il passaggio con lo spostamento della capolinea alla stazione credo che sia un obiettivo che abbiamo raggiunto anche insomma velocemente anche con dei costi abbastanza bassi chiaramente c'è tutto un programma di miglioramento che andremo a fare in piazza della stazione perché è collegato poi al piano integrato della stazione che è in corso è stato avviato anche questo procedimento e poi soprattutto quel parcheggio per i pendolari perché anche quello è stato uno spazio in più che siamo andati a realizzare abbiamo aperto via Europa e ora abbiamo aperto la viabilità quanti posti in più ci sono ci sono in più mi sembra che ci sono una sessantina di posti comunque insomma rispetto abbiamo aggiunto almeno quasi raddoppiati rispetto a quelle che c'erano perché poi abbiamo mantenuto anche quelli alla stazione in più abbiamo aggiunto sì era critica era un po' critica la situazione credo che quello sia un bel intervento così come abbiamo aperto la viabilità il martedì col mercato ora speriamo il banco di prova sarà la prossima apertura della scuola ma insomma ci attiveremo perché la viabilità possa essere tenuta in migliore dei modi abbiamo portato dei miglioramenti anche con dei dossi anche alla partaccia che ci sono stati richiesti abbiamo asfaltato diverse strade molte saranno verranno asfaltate anche nei prossimi mesi qualcuno ha detto ha fatto la battuta dicendo che siamo la prima amministrazione che facciamo asfaltiamo le strade appena eletti non in campagna elettorale alla prossima notte quindi qualcuno vedo che ha apprezzato anche questo chiaro i budget sono quelli che abbiamo ripeto non possiamo fare di più di quello che purtroppo la stabilità dei conti deve essere mantenuta però l'impegno è massimo e credo che anche questo lo possano riconoscere anche in montagna perché in tante località siamo intervenuti anche penso ad Antona e in altre parti dove abbiamo cercato anche lì di apportare dei miglioramenti alla viabilità bene 15 mesi sono passati l'estate è finita quindi siamo in tempo di bilanci nuovamente vorrei fare una stima un po' su come è andata quest'estate quindi flusso turistico gli eventi che sono stati fatti quindi mi riferisco alla prima edizione del Mercurio d'Argento i fuochi d'artificio che quest'anno tutti hanno detto sono stati veramente bellissimi spettacolari il giro della Lunigiana prima però di parlare le vorrei far vedere il video che ha girato la RAI per noi per la città di Massa con il delegato alla costa Marco Amorese che accompagna tutte le persone bravissimo Marco bravissimo a guardare le nostre bellezze vediamoci il video torniamo subito ci troviamo a Massa una bellissima città tra il mare e le montagne in 20 minuti si arriva dalla nostra costa alle Alpe Apuane una cosa molto apprezzata e richiesta dai turisti Piazza Aranci la piazza centrale di Massa che prende proprio il suo nome dalle due file di Aranci piantate la contessa Elisa Bonaparte sorella di Napoleone Bonaparte il gioiello di Piazza Aranci è sicuramente il palazzo ducale qua ci troviamo all'interno della sala di Svizzeri sala che viene usata oggi per artisti internazionali e nazionali sia di scultura che di pittura il castello Malaspina il vero simbolo di Massa da qua turisti e massesi possono ammirare dal nostro castello la nostra costa e le nostre montagne un panorama unico Piazza Mercurio è sicuramente una delle piazze più antiche di Massa e proprio da questa statua a questa piazza prende il nome il premio Mercurio d'Argento nasce a Massa il Mercurio d'Argento festival dedicato alla musica per l'immagine un concorso per giovani che in qualche modo si sono impegnati appunto in queste categorie lungometraggi cortometraggi documentari pubblicità e anche la musica per le colonne sonore dei videogiochi siamo tornati dopo questo meraviglioso video che è stato girato per noi per la città di Massa e quindi anche per lei che è il nostro primo cittadino parliamo appunto di questi eventi come ne sono sembrati direi che l'estate è andata abbastanza bene soprattutto nella seconda parte credo che tutto esaurito sia sicuramente un dato penso insomma anche lì non dovrei trovare grosse smentite nel complesso si sa che la stagione in Italia ha avuto un piccolo calo insomma il turismo complessivo quindi un po' anche se ne è parlato anche della Versiglia succede anche ci sono dei momenti in cui magari alcune annate in cui non so all'estero era più difficile andare per ragioni anche di sicurezza e quindi magari ci si concentrava più in Italia però io credo che anche il turismo anche straniero sia ricomparso da noi ha già qualche numero alla mano? no ancora no però gli uffici del nostro ufficio quando hanno in questi insomma durante i mesi d'agosto cercato di capire la situazione c'era il tutto esaurito dappertutto quindi questo è un dato mi sembra importante più credo che quest'anno gli eventi che abbiamo cercato di promuovere di organizzare di portare avanti di accompagnare siano stati importanti e siano stati anche spesso nuovi originali mi ricordo comunque che insomma sia su massa quindi centro storico sia su marina abbiamo cercato di bilanciare le iniziative in modo tale da creare un movimento complessivo che coinvolgesse tutto il territorio dalla notte bianca insomma con Radio 105 insomma credo che sia avuto un bel successo nonostante tutte le difficoltà che sappiamo ogni volta che si organizzano eventi perché abbiamo sempre problemi di safety di security però questo lo possiamo affrontare anche la notte nera che mi sono scordata la notte nera quella dei pirati bellissima marina ma devo dire che insomma come diciamo eventi possiamo anche parlare di eventi sportivi perché non dimentichiamoci che dal triathlon da paratriathlon di questa primavera per arrivare poi alla festa dello sport della scuola secondaria di primo grado che abbiamo avuto che ai primi dal 20 al 24 maggio che anche qui ha portato comunque persone ha portato turisti insomma ha portato movimento nelle nostre località poi c'è stata di water and marble in centro a massa molto bello un evento nuovo il mercurio d'argento che come prima iniziativa credo che insomma si è riuscita piuttosto bene ha avuto un certo rilevanza un certo riflesso anche a livello nazionale poi su marina la festa dei pirati la bella marina insomma potremmo andare avanti con veramente citandone veramente tanti e altri ne vogliamo ne stiamo pensando comunque stiamo pensando di migliorare di implementare quello che è diciamo che l'amministrazione è già al lavoro per la prossima estate noi ci abbiamo provato poi insomma mi fa piacere che la sera dei fuochi ad esempio c'era veramente marina in vasa era una bella festa dobbiamo dobbiamo mi sembra giusto perché noi dobbiamo lavorare su questo abbiamo detto che il turismo abbiamo detto che le iniziative culturali portare le persone abbiamo inaugurato il percorso Tati del Museo Guadagnucci insomma stiamo lavorando su tantissime cose quindi credo che questo sia l'atteggiamento giusto l'atteggiamento corretto a volte anche di provare alcune cose magari avere anche un po' come dire lanciarsi anche in alcune iniziative certo non tutte sappiamo che possono avere delle ricadute immediate però col tempo non dimentichiamoci che qui sostanzialmente abbiamo come dire portato avanti qualcosa da zero insomma non abbiamo portato avanti qualcosa che ci siamo già trovati e su questo non è stato facile così come abbiamo ad esempio delle ottime stiamo già studiando delle ottime spero insomma delle buone iniziative per Natale Natale e Capodanno quindi per riavere magari i fuochi d'artificio a Capodanno come l'anno scorso che erano piaciuti riavere dei concerti riavere un bel Natale stiamo pensando di portare una ruota panoramica insomma altre cose che non voglio rivelare tutto per lasciare anche un po' di sorpresa però anche il Natale speriamo di renderlo un Natale bello ricco gioioso ovviamente sempre nel rispetto anche della festa religiosa è così importante per noi però insomma e nel frattempo tutti gli eventi che ci accompagneranno da settembre in poi ora a ottobre ci sarà di nuovo massa in forma e andremo fino alla primavera prossima riprendendo quello che è un po' l'esperienza che abbiamo fatto e quindi con la maggiore esperienza speriamo di dare anche una risposta sempre più come dire in qualche modo puntuale che possa andare a perfezionare quelle che erano le piccole insomma piccole mancanze o che abbiamo potuto riscontrare nell'anno passato in conclusione le faccio una domanda un po' un po' così lei è molto onesto mi sembra una persona molto onesta cerco di essere più oltre con me stesso con la sua nesta intellettuale appunto vorrei che lei dicesse se pensa di aver lavorato molto bene in questi 15 mesi oppure se secondo lei deve ancora aggiustare il tiro anche vedendo un po' come va a livello nazionale perché prima insomma lei è salito diciamo a capitanare il consiglio comunale nel momento in cui c'era il governo Lega 5 Stelle adesso le cose sono cambiate quindi insomma anche a livello nazionale per avere un commento anche dal suo punto di vista allora rispondendo alla prima parte della domanda direi che innanzitutto posso dire che abbiamo lavorato tanto abbiamo lavorato bene devo ringraziare tutta la giunta tutti gli assessori dal vice sindaco tutti gli assessori che mi hanno accompagnato in questo percorso che non era facile è vero che abbiamo avuto un piccolo cambio di passo in un certo momento però tutto questo ormai è archiviato e noi guardiamo guardiamo avanti e sì certo il primo anno abbiamo dovuto anche affrontare tante questioni che erano rimaste un po' in sospeso aperte o comunque risolvere tante questioni perché se pensiamo che abbiamo dovuto mettere in mano un po' tutto il contesto organizzativo abbiamo dovuto rimettere in mano un po' l'organizzazione degli uffici a una carenza di personale abbiamo dovuto in qualche modo riprendere in mano dei regolamenti che erano rimasti di fermi da anni abbiamo dovuto completare dei procedimenti avviarne altri penso al mondo delle cave i pave ai regolamenti la tarifazione del marmo tanto per fare qualche esempio cioè nel senso che abbiamo avuto veramente potremmo stare qui altre due ore a raccontare tutto quello che magari non abbiamo detto sulla scuola abbiamo fatto il dimensionamento che l'anno scorso sembrava che stessimo creando la catastrofe e ora sono tutti contenti e tutto è perfetto e questo mi fa piacere perché vuol dire che comunque quello che abbiamo pensato è stato pensato non in maniera superficiale abbiamo riflettuto poi è chiaro che chi fa sbaglia anche noi siamo pronti anche ad ammettere dove abbiamo fatto degli errori però l'importante è il cammino cioè andare avanti dico sempre che se riusciamo ogni anno a aver fatto un piccolo passo avanti quindi lasciare come dire rispetto a quello che abbiamo trovato la situazione un pochino più efficiente un pochino più in qualche modo più funzionale lasciare una città migliore di come l'abbiamo trovato già quello è un obiettivo importante e quindi direi che dopo insomma adesso abbiamo già un po' più di controllo della situazione abbiamo capito tante cose quindi io sono fiducioso tra l'altro una cosa importante è quella delle linee programmatiche di tenerle sempre ben precise per avere poi un bilancio di previsione un bilancio consuntivo che sia in linea con questo e quest'anno ho chiesto ad esempio ai dirigenti agli uffici di poter arrivare ad approvare il bilancio di previsione entro fine anno quindi di non andare oltre questo potrebbe essere un altro importante risultato che ci stiamo prefiggendo quindi ogni giorno fare un passetto in avanti un miglioramento chiaro che il percorso c'è è anche vero che un mandato quinquennale è anche un mandato che purtroppo non ti permette di sognare troppo in là di seminare poi magari raccoglieranno gli altri ma questo non è un problema è importante che si raccolgano cose positive è un obiettivo un orizzonte non troppo non troppo lontano e su questo per questo ogni tanto dico dove possiamo acceleriamo il passo però sempre ragionando bene su quello che stiamo facendo perché è inutile poi se no fare la gatta frettolosa fece gattini ciechi noi non vogliamo fare venendo al quadro nazionale beh al momento sì sostanzialmente per noi non cambia nulla ovviamente anzi questo ci crea forse anche qualche aspettativa in più a livello regionale non lo so mi pongo la domanda nel senso che sicuramente siamo in presenza di un governo che si è creato a livello parlamentare in maniera all'interno di quelle che sono le regole costituzionali sicuramente in un percorso che può sicuramente un percorso legittimo che però credo che da quello che io almeno leggo da quello che sento da quello che ascolto i commenti credo che sia un po' come dire non trovi un riscontro a livello popolare effettivo cioè c'è un po' una discresia in questo momento siamo ritornati un po' a una situazione un po' chi ha il governo immagino e penso ad esempio un presidente del consiglio che pur essendo professore universitario e io non sono ovviamente nessuno per poterlo giudicare però posso dire da cittadino da elettore che nessuno l'ha votato e quindi il fatto di essere ancora lì e dover lui dare l'impulso crearsi questa figura credo che forse gli italiani non siano proprio del tutto contenti forse gli italiani avrebbero a maggior parte gli italiani avrebbero preferito esprimersi come prevede la nostra democrazia quindi sostanzialmente tornare al voto e dare la possibilità magari in questo momento alle forze di centrodestra veramente di creare un governo invece solido un governo che avrebbe avuto veramente la possibilità di giungere a fine mandato invece in questo caso si è creata sostanzialmente anche qui una forma ibrida che non so quanto potrà poi portare veramente degli effetti positivi sul nostro territorio e comunque sul territorio nazionale saremo lì alla finestra vedremo un po' seguiremo l'evoluzione anche un po' con curiosità mi auguro che però insomma questo credo che potrà avere però delle ripercussioni anche positive per il centrodestra alla prima occasione in cui gli italiani potranno magari a livello anche soltanto a livello regionale o chissà a livello nazionale fra quanto poter tornare ad esprimersi sicuramente devo dire che anche il Movimento 5 Stelle aveva già dimostrato un po' diciamo ne abbiamo già parlato anche qua a livello locale una vicinanza con il centro-sinistra che era un po' un po' dissonante rispetto a quello che accadeva a livello nazionale perché insomma posso dire che ovviamente sul centro-sinistra è evidente ma che il Movimento 5 Stelle non trovasse anche una sponda nell'amministrazione quanto meno centrodestra ma a trazione lega qui su massa che potesse in qualche modo far convergere un'unità di intenti verso la direzione di tutelare la provincia di Massaccararo o comunque due realtà grandi come Massaccararo anche questo era un po' era un po' così era un po' parso anomalo ora c'è una spiegazione in più chiaro che questo passaggio dal governo giallo-verde al governo giallo-rosso è evidente che era già un po' nelle corde del movimento insomma quindi mi è piaciuta oggi la frase della senatrice Bonino che ha detto che Conte può essere il suo successore di se stesso ma non può essere l'alternativa a se stesso perché non dimentichiamoci che i tre quarti del governo che lui ha diretto fino a ieri erano i 5 stelle e non dimentichiamoci che le politiche migratorie che sono state in qualche modo deliberate decise legiferate hanno visto anche i 5 stelle concordi quindi sono curioso di vedere cosa potrà succedere sotto questo profilo vedremo se queste politiche verranno totalmente stravolte il sempre senatore Casini anche oggi ha detto in senato che effettivamente dai porti chiusi ai porti aperti credo che il potrebbero questo governo potrebbe cadere in un grave errore perché comunque gli italiani anche se non è vero come ho sentito dire a qualcuno che gli italiani odiano gli stranieri non è vero secondo me gli italiani non odiano gli stranieri chiaramente gli italiani o almeno gran parte gli italiani non approvano quello che era stata la politica dell'immigrazione incontrollata indisciplinata che era avvenuta nelle passate stagioni e i segnali che aveva dato il ministro Salvini io credo che siano tuttora dei segnali invece corretti di una gestione oculata una gestione che vede soprattutto il nostro paese protagonista e l'Europa che così tanto invochiamo a quale tutore della nostra o quale mentore di questo nuovo governo credo che non ci abbia mai molto aiutato anzi ci abbia molto abbandonato sotto questo profilo quindi sono temi a livello nazionale ancora importanti vedremo staremo a vedere tornando nel locale io direi di concludere facendosi un augurio facendo un augurio anche alla sua cittadinanza è una domanda impegnativa direi che l'auspicio è quello innanzitutto di avere la possibilità di portare avanti un percorso che è appena iniziato sempre con una coalizione di maggioranza molto forte molto devo dire una maggioranza che in consiglio comunale si è sempre espressa in maniera molto così compatta e questo è l'auspicio che questa compattezza anzi porti a maggiori frutti quindi a una maggiore anche perché anche gli stessi consiglieri comunali hanno maturato maggiore esperienza stanno lavorando molto bene nelle commissioni insomma ci stiamo occupando di tante questioni tanti progetti anche che vedono la cultura al primo posto i problemi della sanità i problemi del sociale abbiamo problemi di rilancio anche di varie iniziative anche sul commercio quindi abbiamo tanta carne al fuoco ecco questo è importante oggi questo è un momento particolare del nostro percorso perché abbiamo affrontato il primo anno l'abbiamo superato credo insomma io mi do la sufficienza quindi non voglio esagerare ma do sicuramente credo che i primi passi libero giudizio la sufficienza voglio si diceva a scuola se non punti all'otto non lo puoi prendere il sette e quindi dico punta il dieci vediamo se riesco a prendere l'otto intanto mi accontento della sufficienza spero almeno questa di meritarmela credo che ce la meritiamo tutti come maggioranza come squadra di governo e per la città spero che quello che stiamo facendo abbia veramente delle ricadute concrete cioè che le persone incominciano a percepire il cambiamento possono incominciare a pensare di vivere in una città più bella una città più sicura una città più decorosa poi alla fine io dico sempre anche quando parlo insomma anche in giunta o quando ho modo di parlare con i capi gruppo con i consiglieri dico non dimentichiamoci che possiamo pensare a tante cose fantastiche però poi i cittadini cosa vogliono giustamente le strade senza le buche vogliono la strada la città sicura vedere la città bella che progredisce i negozi pieni insomma questo poi alla fine è la percezione noi questo è un contesto più complesso dobbiamo siamo all'interno non siamo isolati quindi dobbiamo anche tenere conto di quello che ci cade attorno però credo che questo sia la speranza che così come ogni tanto mi dicono sono sempre marina più bella con i giardini con i fiori finalmente si vedono i fiori finalmente rivediamo il pontile cioè sentire questo piacere di vedere una città bella godibile questo è un bel auspicio bene con questo abbiamo terminato io la ringrazio di essere stato qua con noi di aver accettato grazie a voi di fare questa intervista bella lunga dove abbiamo appunto affrontato diversi temi della sua amministrazione e io ringrazio anche voi di averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Speciale TG grazie a lei e a tutti gli spettatori grazie grazie a tutti